hi guys è andato tutto bene parliamo dalla fine però domani oggi è il 28 dicembre sono circa le 6 del pomeriggio e tra 12 ore circa avrò l'aereo che dovrebbe riportarmi in america ho fatto il test più devo compilare questo foglio è negativo quindi se ci sarà il pilota che conduce l'aereo visto i tempi che corrono e gli annullamenti dei vari voli dovrei domani arrivare e ritornare negli Stati Uniti dopo quasi sei mesi trascorsi tra l'Italia e l'Europa e come ho detto all'inizio è andato tutto bene è stata una bellissima esperienza iniziata a luglio sono atterrato in Italia il 4 di luglio dopo aver passato i primi sei mesi negli Stati Uniti dove ho lavorato e preparato diciamo la logistica quindi l'organizzazione per questi sei mesi che ho trascorso tra l'Europa e l'Italia dovevano essere principalmente in Europa circa cinque mesi e solo un mese di preparazione in Italia ma per chi mi segue sa i problemi che ho avuto durante il viaggio quando ero in Danimarca quindi una volta raggiunto la Svezia ho dovuto rientrare ringrazio ovviamente tutti quelli che mi hanno aiutato per la fattibilità per la riuscita di questa parte di questa avventura si andò ovviamente da benny gianni e fred che mi hanno aiutato a preparare la macchina la mia panda la nina che in circa tre settimane siamo riusciti a fare una camperizzazione che è risultata molto bella e molto congeniale al viaggio che ho fatto alla fine ero partito il 5 di agosto il giorno del mio 46esimo compleanno direzione nord seguito da padre mario con il suo camper abbiamo attraversato la Svizzera la Francia il Belgio dove c'era la prima tappa da calendario che era ferragosto per andare a vedere il campionato del mondo di rally tra tappa del rally siamo abbiamo attraversato il Belgio l'Olanda attraversato per un pezzettino la Germania passando da Hamburgo arrivando fino in Danimarca Danimarca dove invece abbiamo speso un po' più di tempo soprattutto nella parte nord cagate a zone sarebbe cagate a zone comunque è l'orario dalle 5 alle 13 dalle 5 alle 13 cagate a zone bellissima la Danimarca ci ha veramente regalato dei bellissimi momenti dei bellissimi spazi dei bellissimi luoghi ed è stata una bellissima sorpresa purtroppo in quel periodo mio padre ha iniziato a non stare molto bene abbiamo provato comunque arrivare fino a Gothenburg attraversando il confine danese svedese con un traghetto ma una volta arrivati a Gothenburg ho deciso di rientrare in Italia perché mio papà aveva bisogno comunque di cure mediche che in terra svedese non eravamo sicuri che poteva avere una volta rientrati con una super maratona abbiamo tre giorni circa da Gothenburg siamo arrivati a Domodossola una settimana per riorganizzarmi per ripartire traghetto da Genova a Palermo trascorso cinque settimane stupende in terra siciliana dove ho conosciuto tantissima gente però sulla gente in generale voglio tornare alla fine del video e dove sono andato alla ricerca anche dei miei antenati che per chi mi segue sa che non ho trovato nessuno anche se nei giorni e nelle settimane seguenti sono stato contattato da persone che mi hanno dato delle delle informazioni comunque sembrerebbe che a Novara di Sicilia terra da dove cittadina da dove veniva mio nonno non ci sia più nessun legame parentale vicino alla mia al ramo della mia famiglia ma che tutti si siano spostati in altre terre anche in Sicilia però nelle vicinanze di Novara ma non più nessuno a Novara di Sicilia una volta trascorsi queste cinque settimane in Sicilia che ricordo la parte più bella della Sicilia secondo me è stato la parte della provincia di Siracusa anche se tutta la Sicilia è bellissima anche se si mangia bene ovunque diciamo la mia parte favorita c'è sempre una parte un po' più favorita che poi dipende anche delle esperienze che che capitano però io parlo in questo caso di morfologia del territorio quindi mare scogliere spiagge queste cose qua la parte del Siracusano mi è piaciuta tantissimo una volta lasciata la Sicilia è iniziata la terza sezione del viaggio se possiamo definire sezione il terzo step che è stato ovviamente la risalita da dalla Calabria fino a ritornare a Domodossola attraversando con questo ordine Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte se non ricordo male magari ho dimenticato qualcosa ho fatto qualche giro un po' diverso però più o meno questo è stato il tragitto che ho fatto per ritornare in quel di Domodossola una volta arrivato a Domodossola ho sistemato tutte le pratiche ho portato la macchina a Savona dove doveva essere imbarcata all'8 di dicembre ma per un errore o dimenticanza non si sa bene cosa sia successo la macchina non è partita è rimasta ed è ancora ferma al porto di Savona dove dovrebbe essere imbarcata il 10 di gennaio hanno già fatto la bolla di spedizione mi hanno già mandato tutti i documenti tutto è confermato vedere se la nave partirà in tempo prefissato se sarà in ritardo comunque si parla di qualche giorno di differenza non tantissimo e la macchina dovrebbe arrivare in America a Houston intorno al 10 di febbraio dovrebbe questa attraversata oceanica impiegarci circa un mese spero che tutti abbiate trascorso un felice Natale e siate pronti per un 2022 ricco di chilometri come è stato il mio 2021 un 2021 ricco di chilometri di esperienze di luoghi visti ma come vi ho detto all'inizio del video che volevo lasciare questo argomento alla fine del video è la gente quello che mi ha dato tanto questo 2021 è la gente che ho incontrato sulla mia strada gente che mi segue da diversi mesi ma anche gente che non mi segue tra l'altro sono anche stato a Parigi la settimana scorsa e anche a Parigi ho conosciuto dei nuovi amici ovviamente questo video non mi va di dire nomi perché non vorrei dimenticare qualcuno e perché siete stati tantissimi che vi ho incontrato per strada quindi non voglio far torto a nessuno ma siete stati tutti stupendi è stata una bellissima esperienza veramente condividere quello che ho fatto quello che sto facendo quello che farò con chi mi segue con persone comunque a me sconosciute perché è vero che voi che mi seguite conoscete tanto di me ma io di voi non conosco assolutamente niente quello che conosco sono solo dei nomi e dei commenti che fate adesso ovviamente a qualche commento riesco a dare anche una faccia e questa è una cosa bellissima domani ripeto volerò negli Stati Uniti se c'è l'aereo io ho fatto il testo negativo ho tutti i documenti a posto andrò a lavorare per tre mesi in questi tre mesi sperimenterò un po' di video delle idee da sviluppare ho tantissime immagini fatte a Parigi ho registrato circa due ore e mezza di filmati uscirà circa 12 minuti 13 minuti di video in collaborazione con un'amica che metterà la voce in più ho tantissimi filmati girati a Venezia e spero che un amico professore di storia mi aiuterà a fare questo video mettendo la voce mettendo soprattutto la descrizione anche storica di Venezia perché vorrei fare una cosa particolare e bella in più nell'ultimo video che avevo parlato del corso di videomaker di Casey Neistat mi sono iscritto mi sono iscritto lo farò questa è una parte dell'idea perché vi farò partecipi del corso facendo un daily vlog dall'America visto che il corso è un'ora al giorno io farò un video dove andrò a raccontare in quell'ora al giorno che che cosa che segreti ci diranno e imparerò e che cosa condividerò quindi voglio condividere con voi anche questa esperienza facendo questa maratona di video per raccontarvi il corso che vado a fare spero non si sia mostrato la telecamera perché è appoggiato sul cavallettino sul tavolo in vetro e ho picchiato il tavolo in vetro vediamo vedi così magari si muove però magari non si muove proverò a editarlo stasera caricarlo stasera il video metterò anche delle immagini di ripertorio durante il mio giro in Europa giovedì e sabato esce dovrebbe uscire qualcosa che ho fatto a Parigi la settimana prossima non so se lunedì martedì mercoledì devo vedere quando mi trasferisco da Iuson alla fabbrica quindi quando avrò tempo ovviamente ci sarà la diretta dovrebbe essere il primo lunedì del mese ma mi sa che lunedì dovrò guidare e quindi non avrò tempo di farla diretta in questo caso la sposterò a martedì comunque se state collegati lo saprete presto appena lo so ve lo farò sapere per questo video ho finito vi auguro un buon fine anno ma soprattutto come detto prima un 2022 ricco e ricco di chilometri e amore e felicità da domodossola per questo video e per quest'anno è tutto passo e chiudo ciao ah volevo dire in Italia probabilmente ci rivediamo nel 2023 2022 non c'è programmi di venire in Italia quindi guys ci vediamo nel 2023 ciao ciao